Ciao cari amici, la situazione che si è svolta in Israele, questo terribile assalto di Hamas sul territorio controllato da Israele, ha portato tanto disagio anche in Ucraina. Uno può anche non credere domandandosi ma che collegamento può essere tra ciò che accade in Ucraina e ciò che succede in Palestina e in Israele. In realtà collegamento c'è, innanzitutto si tratta di un grave danno, l'ennesimo grave danno all'immagine di Zelensky, del sistema di Zelensky, del suo modo di gestire questa guerra che ormai si è trasformata nel suo affare privato, nell'affare di sua famiglia e adesso queste cose escono fuori in maniera tale che sempre più occidentali prestano attenzione a questa situazione, le aspetti un po' bui, illegali della gestione della guerra in Ucraina. Se prima gli occidentali in loro maggioranza magari non davano attenzione a ciò che avveniva in Ucraina, ciò che era denunciato da diversi giornalisti, cioè traffico di armi, illegalità, corruzione, quando si parlava del fatto che le armi che l'Occidente fornisce all'Ucraina finiscono ad esempio nell'Africa subsahariana nelle mani dei terroristi, di organizzazioni terroristiche come ad esempio Boko Haram, alla gran parte di occidentale questa cosa non fregava niente perché non li toccava direttamente. Qua invece siccome è stato toccato un tema sacro per una gran parte delle occidentali, ovvero Israele, noi sappiamo che Israele è una creazione sovietica storicamente, cioè sono i sovietici con Stalin in testa hanno inventato questo progetto, però poi questo progetto è stato strappato dalle mani dei sovietici dagli americani, statunitensi, hanno cercato di trasformare questa idea sovietica dalla roccaforte di socialismo in Medio Oriente in una roccaforte degli Stati Uniti e del mondo anglosassone in Medio Oriente. Loro sono riusciti grazie al fatto che Israele è rappresentato dalla popolazione ebraica, dai leader ebraici che all'epoca specialmente erano molto interessati di fare doppi giochi, loro hanno preso quello che volevano dai sovietici e poi dopo li hanno traditi e sono passati con gli americani. Il mio non è una critica, è semplicemente racconto come è andata la storia dell'Israele. Chi di voi vuole approfondire, io sottolineo, c'è un bellissimo libro pubblicato in lingua italiana per Sandro Tetti, editore, si chiama questo libro Perché Stalin creò Israele. Leggetelo, ci sono tutti i riferimenti storici, libro scritto da persone serie, se non sbaglio sono diversi autori, adesso io non mi ricordo chi sono, ma il libro è molto interessante da approfondire se volete sapere qualcosa di più sulla tematica di Israele. Quindi Israele è un tema molto importante per molti occidentali, quelli che sono legati con questo paese dal punto di vista etico, culturale, dal punto di vista di interessi economici. Ci sono molti occidentali che hanno legami con Israele, ci sono molti occidentali che magari hanno nelle famiglie le radici ebraiche, ci sono tanti occidentali invece che vedono ancora nell'Israele un luogo importante dal punto di vista culturale, cristiano e così via. Quindi quando si tratta di Israele, quando si tocca Israele, esplode l'opinione pubblica e ciò è successo ieri. Abbiamo visto che alla fine tutta questa informazione forzata che è stata gettata dai media occidentali, nelle masse occidentali riguardo all'Ucraina, non ha avuto l'effetto così spontaneo, così forte, così importante come ha avuto un giorno di semplici notizie, perché ieri non abbiamo visto grandi operazioni mediatiche, non c'è stata una grande propaganda, nessuno convinceva nessuno di niente, semplicemente si parlava, si raccontava ieri di come Hamas ha attraversato la frontiera, come hanno occupato le città e questa narrazione ha superato di gran lunga tutti i mesi della potente narrazione propagandistica che si è creata attorno all'Ucraina. Questo significa che l'Israele, per molti occidentali, è molto più importante di quanto lo è l'Ucraina. Non era comunque complicato ad arrivare a queste cose. Dell'Ucraina se ne frega la gran parte delle occidentali, per loro è semplicemente un pretesto per giustificare l'odio o la volontà di opporsi ai russi. Mentre in Israele c'è un vero sentimento, per Israele molti nutrono veri sentimenti. Proprio questo ha giocato un ruolo importante nella comunicazione e sta giocando ancora, ancora oggi, la comunicazione e ci sarà sempre di più concentrata la comunicazione su ciò che sta avvenendo in Israele, mentre i ucraini vengono spostati su secondo piano. Ovviamente il danno più grande è stato fatto da queste notizie che sono tra l'altro trappellate grazie ai video divulgate da Hamas, nei quali palestinesi ringraziano gli ucraini per le armi ricevuti dall'Ucraina, perché proprio trafficanti ucraini, a quanto pare, hanno venduto a Hamas ai terroristi palestinesi, così li chiamano gli israeliani, così li chiama la gran parte della civiltà occidentale. Dunque loro hanno ottenuto le armi da ucraini, ucraini che questi poveri, innocenti, occupati da cattivi russi, che a quanto pare vendono veramente le armi a destra e a manca, così che diversi armi sono finiti nelle mani dei palestinesi. Ovviamente questa cosa non è piaciuta per niente agli israeliani, loro non sono ancora ovviamente in grado di iniziare dei processi diplomatici, perché adesso sono concentrati su quello che è l'operazione per stabilizzazione della situazione nel loro paese, loro devono mettere a posto tutte le cose, hanno subito un gravissimo danno, soprattutto danno d'immagine, abbiamo visto che tutto ciò che era grande sistema difensivo israele, era alla fine risultato, come si dice, una tigre di carta. Tutto questo è crollato semplicemente perché i ragazzi palestinesi hanno imparato di usare i droni, hanno imparato di usare nuove tattiche di guerra e dietro ovviamente c'è l'Iran, è chiaro, perché gli iraniani le hanno insegnato come si usano i droni, gli iraniani hanno fornito a loro degli elementi tecnologici, però gli israeliani non erano pronti a questo, gli israeliani hanno creato un sistema che era attuale probabilmente 30 anni fa, ma adesso non è più attuale, non è più moderno, perché un semplice drone da 300 dollari che distrugge un carro armato che è dichiarato tra migliori nel mondo, insomma è un segno di totale disfatta. È chiaro che gli israeliani non sono ancora pronti per prendere tutti i particolari e iniziare i processi, arrivare a ogni fornitore d'arme, però io sono sicuro che lo faranno, perché gli israeliani non sono quelli che perdonano e lasciano qualcosa in dimenticatoio. Loro sono molto miticolosi nel rispondere agli attacchi, questa è la loro storia, nella loro storia dell'esistenza di Israele non hanno fatto altro che rispondere agli attacchi dall'esterno e ovviamente anche attaccare, soprattutto attaccare, prendere territori e così via. Quindi io sono sicuro che metteranno le cose a posto in Israele e lo faranno comunque lentamente, perché adesso hanno seri problemi con il mondo islamico, hanno seri problemi con la fornitura di aiuto dalle Stati Uniti d'America, gli americani e britannici non sono più quei grandi egemoni di una volta, quindi adesso c'è il mondo arabo, sono 200 milioni di fedeli islamici nei cuori dei quali batte l'idea dell'Islam, questi sono mossi da un sentimento religioso che noi in Europa, in Occidente non abbiamo più da centinaia di anni, noi siamo diventati, dopo l'epoca di illuminismo abbiamo perso tutto questo, gli israeliani loro sono troppo pochi e loro ovviamente chiederanno sicuramente all'Occidente di partecipare alla difesa del proprio paese. Stati Uniti d'America hanno già detto non vi preoccupate, vi diamo le armi, vi diamo tutto, ovviamente bisogna vedere come lo faranno, perché comunque sono già in crisi, ci sono già problemi per la fornitura delle armi all'Ucraina, è ovvio che tra Ucraina e Israele, Stati Uniti d'America scelgono Israele centomila volte, perché Israele è molto più importante per gli americani che l'Ucraina, l'Ucraina è una delle ultime faccende, tra l'altro un paese pieno di corrotti, americani non amano ucraini, mentre con Israele loro hanno i legami di parentela, in Ucraina ci sono gli ebrei, negli Stati Uniti d'America grandi finanze sono in mano agli ebrei, tutta la lobby bellica, tutta la lobby legata alle armi, alla fornitura delle armi e comunque gestita dalla comunità ebraica sono molto potenti. Hanno ucciso Isaac Rabin per questo, quando c'era un premier israeliano che a mio avviso era un Gandhi ebreo che aveva possibilità negli anni 90 di pacificare la Palestina con Israele e risolvere una volta per sempre queste problematiche, lui è stato ammazzato appositamente da nazionalisti ebrei con un solo scopo, per dare possibilità alle lobby che si occupano di mercato bellico di continuare a guadagnare enorme somme di denaro con sostegno all'Israele, perché Israele aveva bisogno di questa scusa di una guerra, perché se Isaac Rabin pacificava palestinesi con ebrei, con israeliani, allora finiva tutta la storia di soldi, sostegno, armi e la necessità di portare le armi in Medio Oriente. Per questo motivo l'hanno fatto fuori. Ovviamente adesso in tutta questa situazione Israele rappresenta per gli americani una questione molto più importante di Ucraina, gli ucraini lo scoprano adesso questa cosa, perché loro per un po' di tempo hanno vissuto in un mondo fittizio, hanno pensato che loro sono veramente baluardo della civiltà, loro hanno creduto in tutte quelle balle che le hanno raccontato i propagandisti. Adesso, dopo la giornata di ieri, arriva la doccia fredda a Silensky e alla sua compagnia e loro stanno capendo che loro sono niente e nessuno per l'Occidente, che gli Stati Uniti d'America non li considerano neanche esseri umani. Loro sono materiale biologico sacrificabile in una guerra pur di mantenere i russi in difficoltà e attraverso i russi mantenere in difficoltà anche i cinesi. Mentre Israele è veramente un luogo che gli americani cercano di preservare con tutta la loro attenzione della situazione, con tutti i loro mezzi e così via. Quindi per Silensky sono brutte notizie. Uno perché l'Ucraina non è più nei trend dei motori di ricerca. Se voi andate adesso nei motori di ricerca, io ho fatto stamattina un post sul mio canale privato Telegram, fa ridere, ma l'Ucraina è scomparsa. Nei motori di ricerca c'è Israele, Gaza, Palestina, tutto tranne che l'Ucraina. E ovviamente per Silensky questa è una sconfitta totale perché lui ha investito tantissimo tempo, tantissimi soldi, tantissime risorse. Anche propagandisti occidentali le davano enorme mano per rimanere sempre davanti agli occhi degli occidentali, per andare a lemusionare i soldi. E adesso in un giorno è sparito tutto. Sparito tutto, lui ha massacrato il popolo ucraino, ha massacrato il proprio popolo, ha mandato in guerra persino disabili, donne, sta mandando adesso, sta per mandare i minorenni, e improvvisamente tutti questi suoi sforzi semplicemente risultano inutili. Quindi un danno all'immagine incredibile dell'Ucraina. Secondo problema per l'Ucraina è immerso il traffico di armi per l'ennesima volta. Ma se prima, come ho detto io, trafficavano con paesi di cui si ne fregava il mondo occidentale, come ad esempio i paesi subsahariani, adesso è immerso che l'Ucraina ha dato le armi a Hamas, ai palestinesi, e con queste armi i palestinesi hanno attaccato gli ebrei. Quindi io non voglio adesso essere Zelensky, non voglio neanche immaginare come si sta nella sua pelle, perché immaginate gli ebrei, adesso loro metteranno tutto a posto lì nel loro Israele, e vedrete che cosa faranno a Ucraina. Vedrete come cambieranno. Intanto atteggiamenti, ma io voglio vedere anche personalmente cosa succederà con Zelensky, perché lui la metà di famiglia l'ha portata in Israele. Secondo me i suoi genitori sono già stati pensati per l'orecchio, portati per qualche discorso interessante in qualche ufficio governativo israeliano, dove gli hanno chiesto, scusate, ma vostro figlio con chi fa le amicizie? A chi manda le armi vostro Vladimir? Insomma, questa è la seconda situazione. E terza situazione è ovviamente l'ennesimo motivo di non dare i soldi all'Ucraina. Cioè, prima gli americani dicevano no, ma noi non abbiamo più soldi, qua ci sono persone nel congresso che non sono d'accordo, Biden è corrotto, basta finanziare l'Ucraina. In grande linea, tendenza di non dare soldi agli ucraini, degli americani, deriva semplicemente dal modo di fare gli affari degli americani. Gli americani sono persone con mentalità commerciale. Loro, se investono, vogliono vedere il risultato. Se non arriva il risultato, non investiamo più, non vendiamo più niente. Non sono ideologici come i sovietici che buttavano in Africa miliardi e miliardi, che costruivano, davano le armi. Oppure in Afghanistan sono arrivati e hanno cominciato a investire nell'agricoltura, a costruire le centrali idroelettriche, asili, scuole, strade. Hanno fatto il tunnel in montagna che ha costato un botto di soldi, l'hanno regalato ad Afghanistan. I contribuenti afghani non hanno pagato neanche un centesimo per questo tunnel che viene usato, tra l'altro, ancora oggi. È l'unico passaggio in montagna che collega il paese. Questo l'hanno fatto i sovietici, magari pochi lo sanno. Pochi lo sanno, ma l'hanno fatto i sovietici a gratis. Ecco, gli americani non fanno così. Gli americani fanno diversamente. Loro danno un po' di soldi e poi guardano che risultato ci sarà. Se non c'è risultato, ciao, non vedrai i soldi. E a questo argomento, cioè alla mancanza dei risultati, che già ha dimostrato Zelensky, di non avere risultati, perché controffensiva è fallita, tutto è andato perso, derubano, sono corrotti, a questo si aggiunge anche la necessità di dare i soldi all'Israele. Quindi, tra Israele e l'Ucraina, è chiaro che gli Stati Uniti d'America scelgono centomila volte Israele, e l'Ucraina può anche bruciare, non le interessa. Zelensky può morire agli americani, non le interessa. E quindi questa situazione in Israele è una situazione pessima per l'Ucraina, e il fatto che gli ucraini vendevano armi in cambio di soldi ai terroristi di Hamas o di altre organizzazioni islamiche, comunque facevano questo business con gli islamici, questo dimostra la riduttiva capacità di analisi di queste persone. Cioè loro, di fronte al business, di fronte ai soldi, diventano ciechi e non capiscono che così si autoseppelliscono a livello internazionale, perché loro stanno facendo un gioco contro chi in realtà li sostiene, contro gli Stati Uniti d'America. E qua in Israele questa cosa è uscita fuori e la peggior cosa che poteva capitare all'Ucraina è capitata. Sono immersi i contatti tra gli ucraini e i palestinesi durante brutale assalto dei palestinesi sul territorio controllato da Israele. E questa è fine. Questa è la tragedia per l'Ucraina. Tragedia per Zelensky. Si può dire tranquillamente che il progetto ucraino da adesso cambia totalmente la dinamica e vedrete che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come cambierà anche la narrazione attorno a questa situazione. Questo è in grande linea ciò che l'Ucraina ha avuto dopo la giornata di ieri in Israele, dopo la giornata caldissima, piena di brutalità, piena di ostilità, di odio, di violenza. Purtroppo per l'ennesima volta il mondo viene buttato in una guerra, viene buttato per l'iniziativa storica delle anglosassoni, perché se loro non avessero messo il loro naso negli affari del Medio Oriente 70 anni fa, probabilmente oggi la zona Medio Orientale poteva vivere serenamente, tranquillamente, con propri equilibri, senza per forza trasformarsi in un luogo dove è tutto ricoperto di sangue, dove ci sono vittime, dove ci sono omicidi e così via. Quindi, carissimi, io vi invito di iscrivervi al mio canale privato Telegram, dove io pubblico tutti i materiali che arrivano tra l'altro da Israele in una quantità enorme. Molti di questi materiali, i nostri media, non li vogliono pubblicare, perché si tratta comunque di materiali censurati, non si può per motivi politici o etici pubblicare certe cose, però se volete capire la realtà oggettiva bisogna vedere il mondo così com'è, non sempre ascoltando Pinco Pallino dalla televisione che vi racconta come vanno le cose, perché adesso ormai siamo di fronte a una realtà molto diversa da come ce la raccontano. Quindi vi invito di approfondire, abbonatevi al mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione a questo mio video. Vi invito anche di iscrivervi al mio canale YouTube, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, è un libro in cui io racconto le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa leggetelo, approfondite e poi fatemi sapere cosa ne pensate, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.